La festa liturgica che viene sempre celebrata il primo giorno del nuovo anno è quella della maternità di Maria, Maria che è madre di Dio, in greco si dice a Theotokos che è una realtà della fede che fu assimilata e promulgata nei primi secoli dai padri, dai vescovi che dovevano difendere l'integrità della fede e porta con sé una profonda verità che è necessario ritenere, perché è importante sapere che Maria è veramente madre del figlio unigenito di Dio, cioè madre di Dio, perché c'è una contraddizione che se è una creatura come fa a generare Dio, è qui proprio la sorpresa e la notizia che viene difesa, se è solamente Dio, solamente figlio di Dio, ciò che ha fatto non è veramente competente nella nostra vita, perché è chiaro che l'ha fatto, lui è Dio, noi non lo possiamo fare, è in realtà vero Dio e vero uomo, se fosse solamente vero uomo, ciò che ha fatto un po' ci schiaccerebbe, perché vorrebbe dire che è semplicemente un uomo straordinario, super dotato, che ha fatto delle cose che nessuno di noi può fare, e invece è proprio questa realtà per cui è vero Dio, è vero uomo, ed è questa realtà, è difesa proprio dal concetto di Theotokos, cioè di madre di Dio, generatrice di Dio, è una donna dalla sua carne, vera carne umana, a uno che però è Dio, questo è un fatto che non si spiega semplicemente con un ragionamento matematico, perché non saremo mai appagati dalla spiegazione del mistero della incarnazione che è soggiacente a tutto questo, però il fatto che Maria sia veramente la madre di Gesù e che Gesù era Dio, per cui lei ha generato in sé qualcosa che era Dio, che sembra un problema di ordine filosofico, ma in realtà è un problema molto urgente per capire veramente la nostra fede. Quindi noi nel primo giorno dell'anno, mentre pensiamo all'anno che inizia, noi siamo di fronte a questa capacità di Maria di generare Dio, che in realtà è estesa a tutti noi, c'è un brano del Vangelo di Luca che dice tua madre e i tuoi fratelli sono fuori che ti aspettano, lì dove ricordiamo sempre che i fratelli erano un nome generico per i parenti, ecco, e Gesù dice chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Chi ascolta la parola del padre mio la mette in pratica è mio fratello, sorella e madre, ovvero sia noi possiamo fare la stessa esperienza di Maria, come fratelli, come sorelle, noi possiamo vivere la stessa esperienza di Maria, Maria ha generato in sé Dio, noi possiamo vivere, vedere uscire dalle nostre opere, vedere uscire dalla nostra esistenza la gloria di Dio, la grandezza stessa di Dio, noi dobbiamo però in questo momento di fronte a questa bellezza che è la nostra capacità di generare ognuno secondo il piano di Dio su di lui, essere un incontro serio con la gloria di Dio nella nostra vita, noi però tutto questo lo dobbiamo guardare a fronte di un altro tipo di problematica, una problematica del nostro tempo che è il problema della fecondità, essere madre di Dio vuol dire innanzitutto essere madre, molto spesso tutto questo che sto dicendo è lontano dal cuore di chi può riceverne notizia perché non solo è semplicemente negato il fatto che uno possa essere generatore di cotanta bellezza, essere sorgente addirittura delle opere di Dio perché noi veramente possiamo essere veri figli d'uomini e figli di Dio, veramente possiamo portare questa dimensione che il battesimo ci regala e che si può vivere in maniera splendida come vediamo nella vita di tanti, tanti cristiani, di tanti santi, ecco ma noi non siamo aperti a questo perché prima ancora non siamo aperti all'idea di essere madri, di essere padri, di essere fecondi, questa è la giornata in cui si celebra la bellezza della fecondità di Maria ma qui si tratta di aprirsi alla fecondità, noi siamo in un'epoca che non è semplicemente attacchi il generare figli, l'idea di essere felici della vita nascente o di difenderla, di custodirla, no no proprio è un problema a monte dell'identità umana, il delirio di autonomia ci ha portato alla solitudine, il innamorarci di noi stessi, innamorarci della nostra ragione prima con il razionalismo, dei nostri sentimenti poi, della nostra sensualità poi con l'attuale superficialità, con l'attuale deriva di ordine autoappagante, questo vivere di piacere in piacere che è diventato il nostro scopo di esistenza, non ci fa fecondi, ci ruba la fecondità, noi siamo chiamati a essere origine di vita, non termine della vita, non luogo dove la vita finisce e viene inglobata famelicamente assimilata, no, noi siamo chiamati a essere persone che procurano vita, curano la vita, sorgenti da cui sgorga bene luce, Maria, immagine di ogni cristiano, è madre di Dio perché è un'opera di Dio che in lei splendidamente gli dà per la potenza dello Spirito Santo di essere oggetto della potenza di Dio che in lei si manifesta, ma prima ancora è madre, può essere madre, badare bene, lei non ha i presupposti perché è pure vergine, perché concepisce verginalmente e questo vuol dire che non si tratta qui di avere chissà che dote, è un'apertura, ciò che la fa madre è dire di sì a Dio, questo devono vedere i pastori. Ecco, il bambino è adagiato in una mangiatoia perché lui stesso non si penserà come una bocca da sfumare, ma come un pane per sfamare gli altri, questo è il luogo deputato assolutamente, assolutamente inadatto normalmente ad un bambino, non si mette un bambino in un luogo lercio come una mangiatoia, ma questo bambino sta sulla mangiatoia perché qualcuno mangi, perché lui è pane da donarsi, lui non è uno che dovrà essere glorificato nel senso deleterio del termine, diventare il centro dell'attenzione perché si deve mangiare l'esistenza altrui, no, lui sarà pane da donare, lo adoriamo in quanto ne capiamo la bellezza, in quanto ne gotiamo la generosità, ma lui non ha pretese, Dio non ha cose da chiedere, Dio ha cose da dare e noi siamo chiamati a diventare figli del Padre Altissimo, sull'esempio di Maria, non più gente che ha cose da chiedere, ma ha cose da dare, noi tutti siamo persone che hanno tanto da dare e siamo liberati dal nostro infantilismo quando smettiamo di avere il centro della nostra attenzione su quello che abbiamo da chiedere, festa della maternità di Maria, festa della maternità, della possibilità di essere sorgenti, scaturigine del bene, da ognuno di noi può venire tanto bene.